Albano, centro commerciale all'aperto dei castelli romani, una tradizione che viene da molto lontano e che affonda le sue radici nell'ultimo scorcio del XIX secolo, in piena rivoluzione industriale. Per questo la CNA Roma Sud Castelli, in collaborazione con il comune di Albano e con il gruppo Facebook Albano Sparita, ha voluto premiare le antiche botteghe cittadine, con più di 100 anni di attività, portate avanti da un discendente del fondatore. Sono state in tutto 13 le famiglie di commercianti premiate, con una cerimonia presso la casa delle imprese della CNA di Albano, alla presenza del sindaco Nicola Marini, del presidente della CNA Roma Erino Colombi e del presidente della CNA Roma Sud Castelli, Luciano Peduzzi. Prima di consegnare la targa, il giornalista Maurizio Bocci del gruppo Albano Sparita ha ripercorso la storia di ogni antica bottega, partendo dalle origini fino ai giorni nostri, con tante curiosità e una serie di caratteristiche foto d'epoca. Molto soddisfatto il sindaco Nicola Marini, che ha garantito l'aiuto dell'amministrazione comunale e commercianti, che nonostante la crisi, lottano per andare avanti. Anche Erino Colombi ha voluto manifestare la sua soddisfazione per un riconoscimento importante a tutte quelle famiglie che hanno contribuito e che continuano a contribuire allo sviluppo del territorio. Colombi ha anche sottolineato l'importanza di guardare al passato per proiettarsi con fiducia verso il futuro, motivo per cui tra le prossime iniziative della CNA ce ne potrebbe essere una che preveda start-up di giovani accanto alle botteghe storiche.